ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con salva un amico ci troviamo al parco canilempa della val basca como sono con marco della protezione animali e con sky un piccolo aschi piccolo ma in realtà già tre anni diciamo qual è la sua storia si allo sky è stato trovato vagante anche nel comune di vegnano sul confine proprio con a piano gentile c'era una festa di una polisportiva lui si è infilato dentro a mangiare a farsi coccolare lui un cane che alci e quando è stato trovato aveva un chip il problema che era un chip ungherese mai registrato in italia quindi non si sa la provenienza come è arrivato qua di chi era quindi ha fatto i suoi giorni dieci giorni in ats al canile sanitario è un aschi quindi un carattere particolare per questa razza si diciamo che un po tutti i cani nordici sono particolari cioè non amano troppo l'essere pastrugnati toccati rigirati sono cani chiamano molto un indipendenza certo distacco però senso si affezionano le persone loro proprietari però nella loro maniera senza stare troppo addosso perché gli da un po fastidio troppo affetto non troppo affetto manipolatorio nel senso affetto senza di mangiare curarlo come facciamo noi e tutto ma non non stagli troppo addosso perché sono cani che non amano troppo l'essere toccati sì quindi qual è la famiglia ideale per sky ma l'ideale serve una famiglia che già avuto tipologie di questi cani nordici quindi che siano aschi e la scammala quindi cani di questa tipologia e poi persone attive persone che abbiano una vita attiva perché è un cane così tenerlo in appartamento vuol dire farlo diventare matto che sono cani che devono fare devono fare tanto movimento fare tante passeggiate ideale montagna portarli magari a fiume perché adesso non sarebbe avere una casa con uno spazio l'ideale avere uno spazio esterno perché non è che muoiono stare chiusi in appartamento però devi dare ancora più tempo dei cagli perché se me lo tieni inchiuso tutta una giornata in un bilocale non è il suo bene sono cani come razza abituati anche a temperature rigide diciamo quindi al caldo soffrono oltretutto sono cani che l'ideale non essere proprio in centro città perché centro città dove c'è molto caldo molto a fa loro la soffrono molto di più quindi l'ideale sarebbe un luogo in campagna con verde un po fuori che sia brunate per dire che sia una zona comunque dove c'è verde dove c'è un po più magari di aria che gira e non la cappa che ci può essere nel centro di comu perfetto quindi speriamo che sky trovi presso una famiglia perché è pronto per essere adottato speriamo che perché è molto bello e anche bravo però bisogna approcciarsi nella maniera giusta per approcciarsi esatto per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile della valbasca al numero 031 54 29 26 oppure inviare un email a canilevalbasca chiocciolagmail.com